Mancavano pochi minuti a luna di notte quando hanno scavalcato il cancello e si sono avvicinati all'abitazione, ma a questo punto il sistema di allarme è scattato e ha messo in fuga i ladri che si sono dileguati nell'oscurità. E' successo lo scorso giovedì nella zona di Pieve Maiano, nei pressi del campo sportivo, dove si sono registrati alcuni tentativi di furto, in un caso immortalato da questo sofisticato sistema di video e sorveglianza di PM allarmi. Le immagini documentano il tentato assalto in una villa con annessa sede di un'impresa edile. I malviventi, come si vede nel video, sono stati messi in fuga dall'allarme prima che potessero attaccare gli infissi per introdursi all'interno dell'abitazione. Le immagini del sistema di video e sorveglianza adesso sono al vaglio dei carabinieri che stanno portando avanti le indagini. A Ceciliano invece un colpo è stato messo a segno in pieno giorno. In questo caso due uomini, dopo aver forzato gli infissi, sono riusciti ad entrare all'interno dell'abitazione e fare razzia di preziosi.